Ragazzi, eccomi qua a Montorzio, Daniel, Vincenzo, no, muova! Vedete che salita, eh! Siamo pronti per un'altra missione delle nostre! Un'arnaticana! Ma che brutta voce di noi sti pane! Guarda, posso avere un'altra? E' veramente finta! Ma pare che non venisci mai qua! Questa è la famosa botta! No, la famosa botta! Ma non mi piace! Trovate! Eh, la mia pietra preferita! Ma qua non ci puoi passare con la macchina in questa strada! C'è, arrivo con padre Pio, c'è una roba! Si! Veramente! C'è, è per rischio! Oh! Preparo a fare il video! Quello che stiamo per fare! Oh! Vedete una pietra E' un vetro! No, due vetre! Due vetre! Oh! Magari un vetro! Vedete se riuscire a capire! Non posso! Fa' un messaggio! Oh, Mauro! Guarda! Oh! Guarda! Mi si sono attaccato! Mi sono attaccato! Mi sono attaccato! Mi sono attaccato! Che caspita! E' un dia sdoppiato! Dai! Chi me lo lancia? Ce lo lancio io dai! Però mi devi inquadrare! Vado! Aspetta! Vado! Vado! Bello! Alza mio! A questo rimane del vetro! Mauro! Aspetta! Vai! Eh! No! Rilancia! Come l'ho ripreso! Bellissimo! Lancia! Non sono finiti! A quanto stai venuti? A quanto? Due e mezzo! Vediamo quando ci mettiamo per salire! Ragazzi! Sono un'altra di vetro con tutta... Ecco! Nella! 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 Ma sarà un'ora che stiamo salendo! Guarda che vediamo pure la casa! Sì sì! S'an'ora che stiamo salendo! Ti ricordi quello? Che favolo? Hai visto? Che cosa? Tu hai tagliato qua! Prima non era così! No! Prima! È possibile quello che ci voleva uccidere l'altra volta! È possibile! È possibile! Il cancello è appannato! Vuol dire che c'è qualcuno dentro! No! Vuol dire che... È una casa degli orrori! Un formicaio! Vedi che ci passano le macchine! Le scarpe mamma! Ma l'ha pulita! Guarda! Vuol essere chi ce ne abita a scapparci! Aspetta! Parti tutta sta strada! Vengo appiti! Sei sei! Con scappolo! C'è una strada! C'è la discesa! Hai visto? Mi sento la scarpa leggermente appagnata! Inquadriamo prima il buco? Ma lo stoppa il video a farne l'altro! Ma quale sto prima? Ma quanto sta? Eh no no! Massimo! 10 minuti! Inquadri al buco! Inquadri al buco! Guarda! Non vedo il buco! Vedi come si vede! Guarda come si vede! Ci butto! Eh mettiti di qua! Eh mettiti di qua! Guarda! L'angelo! Mettiti di qua! Non si vede mai che il buco! L'angelo la pietra! Si! Presta presto! Però stavolta la lancia è più forte! Guarda! Guarda! Sono meno 5! Eh? Vedo! Cosa devo fare più qui? Andate un po' a fare qui! Vi andate dovevo fare più qui! Oh! Che dici? A fare più qui! E' ma ne quadrano film! Guarda! Pausa! Pausa! Non so che sto spostando per cosa che non devo fare niente Lo stavi facendo? Si Alla, tenete giù Andiamo? Ragazzi, non è giù Qui si è al tormentone Ragazzi, non c'erano l'altra volta Non c'erano Eia Avete notato la mia vita Dani sta una fontana avanti Cristo Oh, c'è una stessina dietro di voi, girate Maura Stop il video, provo a me la faccia Bene, ma questa qua come funziona? Ma qui c'è Vincenzo, che? Ah, matto, non c'è Una volta c'era un coltello E' stato spostato Qua qualcuno ci abita, fai Vedete chi si arriva? Oh E E E Dai Lo sai riguardo a concerning quadro E Guarda, dai Qua c'è la rifa Dai Inquadra qua dietro Lui siete venuti qua Guarda Questa è una porta misteriosamente misteriosa xd c'è ancora il regno c'era l'altra volta poi c'è stanno teniamo acqua assoluto ma si può vedere dentro ma andiamo a rompista cosa non no dentro la porta allora scuola non c'è stato immobili andiamo a cercare andiamo a cercare forse mi chiamo a cercare io sono stato di buono I gotta let you go rubatemi una mazza c'è una che sta parlando fuimmo dai fuimmo dai cani non c'è non c'è non c'è dai muovi guarda 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 scendiamo noi scendiamo ti ricordi che c'avevo la batteria di scarica a tutte le tacchette a tutte le tacchette a tutte le tacchette incredibile guarda mira e qua dove si va tutto così tutto bene bene non avrà più acqua bene siamo armati non fare l'idioto tra poco devo soffare il video raga e che andiamo a fare vieni di qua entriamo ok ok la parte seconda aspettate 1 2 3